Allora, grazie alla professoressa Testori che ha organizzato questo evento esagerato, grazie delle lodi che mi avete riservato mettendomi in grave imbarazzo, perché poi finisca che ci credo, è la cosa pericolosissima quando uno comincia a credere di valere quello che gli altri gli dicono che vale. E allora mettiamo tutto questo tra parentesi ed entriamo nel senso di questo dizionario. Questo dizionario, come giustamente faceva osservare Caprara, ha sotto sotto un'ideologia che non appare, nel senso che ho cercato di essere il più oggettivo possibile. L'ideologia consiste in questo, in quello che Husserl ha ben spiegato con una frase molto importante a mio parere in un libro scritto negli anni Trenti, pubblicato dopo la sua morte, che porta il titolo La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, in cui parla dell'enigma della psicologia. Dice Husserl, La psicologia vive un conflitto. Da un lato desidera essere scienza, ma se diventa scienza perde la sua tematica. Dall'altro, se volesse conservare la sua tematica, non può adottare il metodo scientifico. Allora, che cos'è la scienza? La scienza è un sapere oggettivante, valido per tutti, riproducibile ovunque, da chiunque, col medesimo risultato. La psicologia sfugge radicalmente a questo criterio, perché oggetto della psicologia è la soggettività, intesa non come soggettività solamente singolare. Ieri sera, cenando, Caprana mi parlava di una soggettività anche di una nazione, di un gruppo, di un'epoca. Ecco, se la psicologia perde la tematica della sua soggettività pur di diventare scienza, perde la tematica. Se vuole conservare la tematica, non può diventare scienza, perché la scienza è un sapere oggettivante. E l'oggettivazione della soggettività significa la morte del soggetto. Punto a capo. Dopodiché, stabilito che la psicologia non può essere scienza, cosa può essere la psicologia? Può essere una scienza ermeneutica, cioè una scienza, quello che Diltre chiamava scienza dello spirito, in contraposizione alle scienze della natura. Anche se le neuroscienze oggi tendono a far diventare la psicologia una scienza della natura, ma non ci riusciranno. Non ci riusciranno per la semplice ragione che mi possono spiegare tutto a partire dal cervello. Ma poi, mi devono spiegare anche i significati. Mi viene in mente una frase di Sartre, quando dice che quando uno ride, impiega la stessa muscolatura, lo stesso sistema nervoso di quando uno piange. Ma non possiamo per questo concludere che il significato del riso è identico a quello del pianto. E allora o la psicologia si occupa di significati, oppure, prescindere dai significati, si limita a considerare gli elementi che condizionano l'accadimento psichico senza capturare i significati e smette di essere psicologia. Questo è un po' il problema. La scienza. Io sono del parere di Nietzsche. Nietzsche dice che la scienza vuole la regola, perché la regola toglie l'aspetto pauroso del mondo. La paura dell'incalcolabile è l'istinto segreto della scienza. Non c'è dubbio che la scienza vuole la regola. E non c'è dubbio che la regola toglie l'aspetto pauroso del mondo. Ma la regola riproduce il mondo della vita oppure no? Quando Aristotele aveva finito di scrivere la sua logica, dopo dice che il nus, la ragione, quello che potremmo chiamare all'epoca la scienza, non è in grado di regolare il mondo della vita. E inventa un'altra facoltà, l'afronesis, che è una certa saggezza, una certa prudenza, un certo modo di risolvere i problemi che non sono teoremi matematici. La vita dell'uomo non è un teorema, non è deducibile da principi, non prevede conclusioni universali, non è trattabile attraverso metodi scientifici. Ecco, allora l'intento segreto è come si fa allora a fare una scienza dello spirito dopo aver rinunciato al fatto che sia scientifica la psicologia? Si fa innanzitutto mettendo insieme i pareri diversi. Allora, che cos'è l'angoscia? Beh, cominciamo da Kierke, che ha visto che è stato il primo, ma qui vuol dire chiamare in causa la filosofia. Poi la psicanalisi ha una sua visione dell'angoscia, la psichiatria ne ha un'altra, si fanno discutere i saperi. I saperi discutendo non pervengono necessariamente ad una conclusione. Tra l'altro le risposte definitive servono per otturare le domande, di solito. Mentre le domande hanno senso se si amplificano, non se si chiudono. Quando Oliver Sacks dice se hai trovato le risposte giuste a tutte le tue domande, vuol dire che le domande non erano quelle giuste. Ecco, è bene allora che le scienze dialogano tra di loro. Il metodo psicologico allora deve essere il metodo ermeneutico. Ermeneutico vuol dire scienza dell'interpretazione, sapere interpretante. Ma l'interpretatore cosa vuol dire? Che io devo partire da un sapere costituito, che è il luogo dove io sono nato, cresciuto culturalmente, e a partire da lì mi metto a dialogare con gli altri saperi. Perché il dialogo con gli altri saperi relativizza il mio, mi rende tollerante. La tolleranza non è che io tollero qualcun altro diverso da me. tollerare e sottintende l'ipotesi che l'altro abbia un gradiente di verità superiore al mio. Questo è l'unico atteggiamento attraverso il quale si può dialogare. Questa è anche la ragione per cui non si può dialogare con quelli che ritengono di avere la verità assoluta. Attraverso questo dialogo non si arriva ad una consapevolezza della complessità dei problemi, che non sono semplici, soprattutto per la psicologia, che non ha uno statuto proprio. Non ce l'ha ancora. E non le resta che il dialogo con le altre discipline. Può davvero la psicologia, a prescindere dall'antropologia, dalla sociologia, dalla linguistica, dalla neurologia? No, non può. E mentre, non so, la fisica ha il suo statuto, mentre la biologia ha il suo statuto, la psicologia non ce l'ha. E allora proprio perché non ce l'ha, non può appartenere alle scienze dure, alle scienze naturalistiche, come dicevo opportunamente, credente, ma alle scienze interpretative, che sono anche le più ricche, quelle che più riproducono la condizione dell'umano. Davvero possiamo considerare Dostoevsky solamente un letterato, non un protopsicologo? e lui si muove all'interno dell'umano. La letteratura non è l'anticipazione dell'elemento psicologico. La psicologia, quando non c'era come scienza, tra virgolette, non c'era già come letteratura, come interpretazione artistica, come modello di parlare dell'uomo, ma se io penso, ad esempio, come è nata la psichiatria, dopo che Cartesi ha ridotto il corpo a organismo, da leggere con le idee chiare e distinte, che all'epoca sua erano le idee della fisica, oggi lo possiamo leggere con le idee della biologia molecolare, e avremo un'altra narrazione del corpo, oppure possiamo leggere con il linguaggio della genetica, e abbiamo una terza narrazione del corpo. Qual è il corpo? No, questi sono tutti organismi. Il corpo ha a che fare con il mondo della vita. Bene, quando Cartesi ha stabilito che il corpo è un organismo, e grazie a lui è nata la medicina, poi tocca a noi capire che se la medicina, per esercitare il suo lavoro, ha bisogno di una riduzione del corpo a sommatoria di organi, questo non significa che il corpo sia una sommatoria di organi, esattamente come le figure ambigue, dove io posso leggere un vaso o un volto, due vasi o un volto. Ecco, la medicina ha bisogno di ridurre il corpo-organismo, ma questo non significa che il mio corpo sia nient'altro che organismo. Quando voi avete bisogno di una vista oculistica, il vostro occhio entra nello studio, ed è ciò attraverso cui voi vi relazionate ad un'altra persona, che è il medico. In quel momento voi agite con il vostro corpo. Poi dopo il medico vi piazza le sue macchine sui vostri occhi, e il vostro occhio non è più ciò che guarda, ma ciò che è guardato. Diventa un oggetto. Voi sparite come soggettività, sparisce anche il medico con la sua soggettività, perché diventa il funzionario di un sapere che si parla da solo, che è il sapere scientifico. Ecco, se riuscite a capire questa cosa, è un passaggio molto importante, un passaggio molto importante, dopo vi dico perché è importante. In ogni caso, quando Cartesi ha ridotto il corpo come organismo, cosa è successo? È successo che c'erano delle persone che si comportavano veramente in maniera un po' malsana, come ad esempio i catatonici che stavano lì con retti su un piede, magari per delle ore, cosa che sembra impossibile, o come gli schizofrenici che quando sono in crisi gli viene una forza al quadrato, non giustificata dalla sua muscolatura. Allora cosa hanno fatto? Questi qui non possono rientrare nel mondo medicale, perché il loro organismo non presenta niente di anomalo. Allora è nata una scienza da rifuso che si chiama Morbus Sinemateria. Cioè, la psichiatria, prima di essere una iatria della psiche, è nata come residuato di tutto ciò che non è spiegabile organicisticamente. Allora, se non sappiamo queste cose, se non le sappiamo, non so, perdiamo un'infinità di cultura che ci viene dalla genesi, perché non dobbiamo interrogare le cose solo col metodo platonico, che cos'è una cosa, ma anche col metodo dicianno, come è venuta al mondo questa cosa, perché le cose non sono altro che il prodotto della loro storia. Non so, se prendiamo per esempio la parola corpo, all'epoca di Platone era la prigione dell'anima, perché il corpo non era una condizione per pervenire al sapere universale e valido per tutti, perché le sensazioni corporee variano da individuo a individuo, per cui Platone ha introdotto la parola anima, dice se vogliamo parlare di un sapere universale e valido per tutti, dobbiamo procedere con costrutti della mente, con numeri, con misure, con quantità, bene, qual è l'organo? L'anima, che non è un evento cristiano, è un evento platonico, un evento platonico. La psichiatria ha avuto questa genesi, dopodiché dell'anima si era detto tutto, che era buona, che era cattiva, che era mortale, che era immortale, che Dio la immetteva nel corpo dopo tre mesi, perché prima la materia era indegna di ricevere una forma, e alla fine si è stabilito, sono nati i medici dell'anima, i psichiatri. Ma è interessante, la psichiatria a sua volta come è nata? Prima i matti venivano messi nelle prigioni, perché i loro atti erano simili a quelli dei delinquenti. Sono state necessarie due considerazioni di ordine religioso per liberarle. Pinel ha detto, siccome i matti fanno le loro cose senza piena avvertenza e deliberato consenso, che sono le grandi macchine per poter fare un peccato, se non hai piena avvertenza e deliberato consenso non fai neanche peccato, allora non possono essere trattati come delinquenti, quindi devono essere messi altrove e nascono così i manicomi, ma con categorie religiose, non psichiatriche. La psicanalisi, abbiamo sentito che la psicanalisi probabilmente andrà morendo. Sì, è vero, perché la psicanalisi è un evento romantico. A inventare la psicanalisi è stato Schopenhauer, lo dice esplicitamente Freud, il quale dice, non l'ho inventata io, l'ha inventata Schopenhauer, il quale ha scoperto che ciascuno di noi ha una doppia soggettività, una che dice io e l'altra che dice la specie. Le due soggettività sono tra di loro in contraddizione. Gli interessi dell'io non coincidono con quelli della specie. Una donna che deve generare, deve assistere alla deformazione del suo corpo, al trauma della nascita, la dedizione del suo tempo al neascitturo, la soppressione del suo spazio, magari la perdita anche del suo lavoro, dei suoi amori che magari passavano attraverso il lavoro. Un disastro dal punto di vista dell'economia dell'io, ma un vantaggio secco per la specie. E nell'inconscio cosa ci mette Freud? Le due pulsioni fondamentali della specie. La sessualità per la procreazione e l'aggressività per la difesa della prole. Ma alla specie non ci pensiamo mai e quindi inconscio. Adesso però noi siamo entrati nell'età della tecnica. L'età della tecnica è regolata da una razionalità rigorosissima. Raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Raggiungere il massimo della chiarezza espressiva con l'impiego minimo di parole. Due innamorati dal punto di vista della razionalità tecnica una volta che hanno detto io ti amo hanno detto una cosa chiara, precisa. Se hanno bisogno di altre parole creano solo confusione, ridondanza linguistica, eccesso di valenze simboliche confusive, impianti semantici da approfondire che capiscono solo l'ordù nel linguaggio duale. Dal punto di vista della tecnica tutta sta roba, via! Via! E che la tecnica sia già entrata nella scuola avverto che a Milano nei licei non si fanno più i temi perché nei temi salta fuori la soggettività dello studente. Ma come fai a giudicare la soggettività? Al posto del tema fai la comprensione di un testo scritto. Cioè misura lo studente sulla sua prestazione, sulla sua competenza linguistica, non più su chi è. E poi pretendiamo che la nostra scuola ancora educhi. La nostra scuola non educa. E il sistema tecnico è già entrato lì, persino lì. Perché la tecnica lavora fuori dalla tecnica. una mamma mi ha chiesto professore il giorno che portavo a scuola il mio nipotino c'è un mio bambino che fa la quinta elementare e che vuole lo smartphone. E io ho detto che deve farglielo dia. Perché se la socializzazione passa attraverso questo strumento lei è priva del suo bambino, non di un mezzo tecnico ma della socializzazione. E la tecnica è già arrivata a stabilire come deve essere la socializzazione. Perché la tecnica è un insieme di strumenti che decidi anche i fini. E come può l'etica, la politica impedire la tecnica che può di non fare ciò che può. Che fa la psicologia in un contesto di questo genere? Si occupa di questi scenari? Ha capito chi è l'uomo nell'età della tecnica? Sa che la depressione quando eravamo nella cultura della disciplina era ordinata sulla tematica della colpa e oggi è ordinata invece sulla tematica della inadeguatezza? Ce la faccio o non ce la faccio a raggiungere le scopi che mi propone l'apparato? Questi sono i temi. Allora io consiglierei agli psicologi non fermatevi a studiare solo psicologia. La psicologia è una scienza vastissima. E se sta fuori dalla cultura del nostro tempo, se sta fuori dalla sociologia, se sta fuori dalla filosofia, se sta fuori da questi scenari perché non sono di competenza psicologica, si elimina da sola. La psicologia deve entrare potentemente in questi scenari. e deve entrare con consapevolezza, ma per entrare bisogna essere informati di questi scenari. Mi fermo qui perché mi pare che ho già superato il tempo giusto, vero? Sì. Grazie. 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 Grazie.